65 chilometri da percorrere a piedi dal 7 al 9 giugno lungo l'antico tragitto della Cassia Vetus, recuperando il contatto con i luoghi e con la natura. È la quarta edizione del Cammino della Sette Ponti, presentato in Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, a Firenze. Il Cammino è organizzato dall'Associazione Toscana Slow Vagamondo, insieme ai comuni di Reggello, Castelfranco, Pian di Scò, Loro Ciuffenna, Terra Nuova Bracciolini e Castiglion Fibocchi. Farà questa piacevolissima passeggiata, incontrerà una Toscana forse conosciuta in parte, ma in altre parti in attesa. Tante eccellenze, tante comunità locali da scoprire e da conoscere. Sono già centinaia alle adesioni all'edizione 2019 del Cammino della Sette Ponti, che offre anche importanti novità rispetto alle scorse edizioni. Quest'anno partiamo da Ponte a Buriano, anche in onore di Leonardo, perché il Ponte a Buriano, Ponte Romanico, si pensa che sia nello sfondo del dipinto della Gioconda. E arriviamo fino a Reggello, fermandosi ovviamente alla Pieve di Cascia, dove è conservato il trittico di Masaccio. Questa è la novità principale che farà vedere la Sette Ponti, il Prato Magno, in maniera sicuramente diversa.